Commento, oggi è arrivata la soluzione per quanto riguarda l'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota, vuole fare un commento? Un grande abbraccio alle persone che sono state per tre anni derise, l'ultimo caso è stato poche sere fa, nel quale Matteo Renzi ha ricordato deridendo appunto Roberto Cota, diciamo che adesso aspettiamo le scuse di Renzi, perché la regione Piemonte legittimamente eletta, democraticamente eletta, è stata di fatto abbattuta da un'iniziativa giudiziaria che appunto oggi si vede concludere con la totale assoluzione, quindi un grande abbraccio alle persone che sono state accusate ingiustamente, un grande abbraccio anche agli elettori piemontesi che si sono visti scippare il loro voto pochi anni fa dai giudici.